Welcome to Las Vegas! Siamo nel deserto del Nevada, nella città simbolo del gioco d'azzardo. La Strip è la strada principale di Las Vegas, dove sorgono i migliori hotel della città. Partiamo subito con la nostra Top 5! Al quinto posto c'è New York, New York, che ripropone la famosissima Statua della Libertà. Al quarto posto c'è il Luxor, costruito in una grande piramide. Al terzo posto c'è il romanticissimo Paris, ricostruito secondo lo stile delle vie parigine degli anni 20. Al secondo posto c'è il Venezian, dove troverete ricostruiti San Marco, il Ponte dei Sospiri e un canale con tanto di gondolieri. Al primo posto c'è il Bellaggio, ispirato alla famosissima cittadina sul lago di Como. La nostra Top 5 finisce qui. Qual è il vostro hotel preferito? Scrivetelo nei commenti e mi raccomando iscrivetevi al canale! Ciao!